Prevenzione al Covid e scuola sono ormai due temi legati a doppio nodo. Dopo due settimane di screening dedicato alle scuole superiori voluto dal Comune di Pesaro, oggi sono scattati i primi tamponi di massa in un istituto primario. Si tratta della scuola di Via Fermi in cui per tutto il pomeriggio sono stati chiamati al tampone centinaia di alunni in una giornata cominciata da 120 docenti e collaboratori scolastici dell'intero istituto comprensivo Leopardi, insegnanti ben disposti alla procedura. Noi speriamo che questa giornata riesca a farci riprendere il lavoro nella normalità perché siamo un po' preoccupati e è un grande risultato quello che abbiamo avuto di ottenere questo momento. La risposta è tanta da parte dei docenti, speriamo anche da parte delle famiglie e ci facciamo un grosso in bocca al lupo. Io penso che sia il presupposto fondamentale per cercare di tornare a lavorare con tutta tranquillità. Noi fondamentalmente pensiamo in primis alla salute dei bambini che è la parte fondamentale del nostro lavoro, però si muove anche alle nostre famiglie, ai nostri cari, alle persone che ci sono accanto. Lo screening è stato accolto dall'Asur dopo la richiesta dell'istituto Leopardi che comprende la scuola di Viaferme nella quale si contano una ventina di casi positivi attualmente fra il personale scolastico. Per quanto riguarda gli studenti sono tre le classi poste in quarantena. Lo screening dirà se il contagio si è allargato o meno anche agli alunni. Sono molto contenta perché è il primo istituto che è riuscito a proporre questa cosa al proprio personale scolastico e mi riferisco chiaramente a un istituto di scuola di primo grado. Quindi credo che sia un'opportunità ottima per i docenti, per gli alunni, proprio per dare proprio un fermo immagine di quella che è la situazione presente. Primo screening in una scuola di primo grado, ma è dietro l'angolo anche il primo in una scuola media. Sabato toccherà all'istituto Gaudiano. Sabato tutto il plesso Gaudiano, quindi scuola secondaria di primo grado, potrà essere sottoposto a screening. Lo screening è aperto agli studenti, alle loro famiglie e a tutto il personale dell'istituto. Questo in conseguenza di alcune classi che sono state poste in quarantena. Attualmente ce ne sono tre, una rientra domani. È un'iniziativa che io apprezzo tantissimo e che spero che sarà accolta da tutta la mia popolazione scolastica perché ci permetterà anche di fare un punto zero e capire e fotografare l'attuale situazione sanitaria.